Ieri abbiamo guidato tutto il giorno sotto un incessante acquazzone, è uscita tanta di quell'acqua che fa spavento, praticamente abbiamo fatto quasi 500 chilometri, 450, sotto l'acqua. Ieri sera siamo riusciti a trovare questo posticino, lato strada, una strada sterrata che esce dalla strada principale, siamo qui ai margini del bosco, serata nottata tranquillissima, adesso il cielo è molto nuvoloso, a pratti esce il sole, si sta bene perché ci sono 17 gradi, perciò il giusto fresco, stanotte abbiamo dormito con il piumino quello molto leggero, penso che la minima sia stato intorno ai 14, 13, una roba del genere, perciò si sta da Dio veramente, speriamo solo che non si rimetta a piovere ancora perché abbiamo fatto due giorni, ieri non abbiamo registrato, non abbiamo fatto neanche una fotografia, niente, abbiamo fatto solo autostrade sotto l'acqua, acqua, acqua e ancora acqua, perciò pensavamo che continuando a salire verso nord, trovare un tempo un pochino diverso, invece per 450 chilometri non ha fatto altro che piovere. Adesso siamo nelle zone della città di Orebro e stiamo puntando verso nord ancora e oggi contiamo di arrivare nella contea di Dalarna, almeno è scritto così, presumo che si possa, che si pronunci così, dove andiamo a Nusnas, che è il posto dove fanno quei famosi cavallini rossi, smaltati di rosso svedesi. Magari qualcuno di voi li conosce o ne ha sentito parlare, perciò arriviamo là e so che c'è la fabbrica dove li fanno e la fabbrica si può visitare, perciò entreremo, faremo le fotografie e i filmati, sperando che non ci siano divieti o che, perciò vi porteremo con noi a Nusnas, nella contea di Dalarna. A più tardi, ciao ciao! Grazie a tutti! Qui c'è il magazzino questo qua? Grazie a tutti! Quanti c'è? Eh, sono circa 12 euro. Eh, 12 euro. 150 corone più o meno. Dove sono i cavalli? Sono là in fondo? 15 euro. E' un po' più bello. E' un po' più bello. Sono in ceramica. No, è quest'anno. Ceramica? No. E lì ci sono quelli rossi, i classici. Chi dalle italiani. Ho un po' più bello. È un po' più libero. Nell'alto? bravo bravo